Buongiorno e benvenuti a questa nuova unità didattica sui tempi di reazione. Dovreste ovviamente già conoscermi, visto che ci siamo già visti precedentemente in altre unità didattiche. Mi chiamo Paolo Perego, sono uno psicologo con una specializzazione di studi sul traffico, che mi fanno diventare appunto uno psicologo del traffico, e sono inoltre un insegnante di teoria e istruttore di autoscuola. Andiamo un attimo a riassumere quello che è stato detto nelle unità didattiche precedenti, dove prima di tutto abbiamo parlato dei rischi e dei pericoli ricorrenti nella circolazione stradale. Se vi ricordate abbiamo espresso il concetto della sicurezza stradale, abbiamo parlato del triangolo della circolazione, del conducente, della strada, del veicolo, abbiamo parlato degli errori, delle violazioni, il tutto per arrivare a trattare l'argomento fondamentale della cultura della sicurezza stradale. Con la dottoressa Biassoni, nella seconda unità didattica, avete invece parlato di attenzione e concentrazione. La dottoressa Biassoni, attraverso diversi esercizi, vi ha fatto capire che cos'è l'attenzione, la differenza fra l'attenzione e la concentrazione, e, in particolare, concetto fondamentale per la guida, che cos'è la distrazione. In questa unità didattica parleremo del tempo di reazione. Cercheremo di capire che cos'è il tempo di reazione, qual è la differenza che c'è fra riflesso e reazione. Cercheremo anche di quantificare, in secondi, quanto è lungo il tempo di reazione, tenendo sempre ben presente che, guidando un qualsiasi veicolo, anche una bicicletta, avremo una velocità e, di conseguenza, in quel tempo di reazione, percorreremo, ovviamente, uno spazio. Ma addentriamoci adesso esclusivamente nel concetto di tempo di reazione. Come già fatto anche precedentemente, cerchiamo di partire da quello che voi sapete di già. Quindi vorrei chiedervi di segnare su un foglio di carta qual è, per voi, il tempo di reazione medio che un conducente ha quando è la guida di un veicolo. Vi lascio un attimo di tempo per rifletterci. Sarei proprio curioso di vedere le vostre risposte. Penso che abbiate scritto valori differenti, magari mezzo secondo, magari due decimi, magari tre secondi, quattro secondi, e via dicendo. Quello che ci dice la letteratura è che il tempo di reazione è di un secondo. La media, ovviamente, su un campione di popolazione molto esteso, è di un secondo. Sembra tanto? Potrebbe essere. O non potrebbe esserlo. Cerchiamo di pensare quali sono i fattori che entrano in gioco all'interno del tempo di reazione. E cerchiamo adesso di comprenderlo meglio andando a vedere questo breve filmato. Molto interessante, vero? Sembrerebbe quasi un fotomontaggio che questo giocatore di baseball sia riuscito in così poco tempo a prendere la pallina, e aggiungerei anche a tenerla in mano. Ci fa quasi pensare, appunto, che non sia reale. Ma invece il filmato è vero. Ed è da qui che voglio iniziare la nostra discussione sui tempi di reazione. Rivediamolo ancora una volta. Ora che l'abbiamo rivisto una seconda volta, proviamo a scrivere su un foglio di carta quali sono per voi i fattori cognitivi, quindi mentali, e anche quelli fisici, che hanno portato questo giocatore di baseball a eseguire questo movimento così rapido. Vi lascio un po' di tempo per riflettere. Penso e spero che abbiate scritto tanti fattori differenti e spero che qualcuno di voi abbia parlato anche dell'attenzione. Attenzione prima del riflesso. Riprendiamo un attimo anche quello che è stato già trattato nell'unità didattica precedente. Riprendiamo la metafora del filtro. È stato detto che la nostra attenzione lascia passare solo alcuni stimoli ambientali. Se la nostra attenzione riesce a selezionare correttamente uno stimolo, allora sarà più facile reagire in tempo. Pensiamo un attimo al video del giocatore di baseball che abbiamo appena visto. Il giocatore aveva la sua attenzione rivolta all'intervistatrice. Stava pensando che cosa risponde alla specifica domanda che gli era stata appena fatta. Nel momento in cui lo stimolo è entrato nel suo campo visivo, stimolando vari canali sensoriali, catturando la sua attenzione, è stato fulminio nel reagire. In pochissimi centesimi di seconde è riuscito ad agguantare la pallina. Il giocatore è stato fulminio nel suo movimento. E questa velocità di movimento è determinata dall'entrata all'interno del suo campo periferico dello stimolo, la pallina. Che cos'è però questa visione periferica? Cerchiamo di capirlo meglio accennandola. La visione periferica è quella parte della visione che risiede al di fuori del centro dello sguardo. Possiamo vedere nelle due immagini rappresentate la differenza fra il campo di visione periferica di un essere umano, sulla sinistra, e quello di un cavallo. Un cavallo, paradossalmente, ha un campo visivo maggiore, però ha una possibilità di visione binoculare, quindi con entrambi gli occhi, molto più piccola rispetto a quello che ha un essere umano. Nella figura di sinistra, appunto, vedete che l'essere umano con entrambi gli occhi riesce a vedere tutto quello spazio, mentre con l'occhio destro e l'occhio sinistro ha la possibilità di avere quella visione periferica determinata. Ogni qualvolta uno stimolo entra all'interno del campo visivo, il nostro cervello analizza lo stimolo stesso, potrebbe essere la pallina del filmato, e decide che cosa fare. Spero che sia chiaro che se uno stimolo qualsiasi attira la nostra attenzione, perché entra all'interno, ad esempio, del nostro campo visivo, in quel caso può esserci un movimento. Importante in questo momento è andare a comprendere bene la differenza che c'è fra un riflesso e una reazione. Per cercare di capire, in pratica, la differenza tra i due, provate a fare questo esercizio. Indicate o scrivete sul vostro telefonino o sul vostro computer il link seguente. Nella prossima slide poi vi indicherò meglio anche alcune particolarità dell'esercizio. Dovreste aver inserito il link e di conseguenza dovreste vedere all'interno del vostro screen il riquadro, come quello nella slide, con scritto o proprio al tuo tempo di reazione. Cosa dovete fare adesso? Semplicemente schiacciare il grande pulsante che trovate lì sulla destra, quello con scritto premi qui per iniziare, attendere che la luce del semaforo diventi verde, quando diventa verde cliccare immediatamente ancora sul pulsante rosa. Cliccate nuovamente sul pulsante per continuare. Nel caso in cui sbagliaste, non preoccupatevi, rifate tranquillamente l'esercizio o anche se trovate una metodologia più veloce per schiacciare il tasto appena il semaforo da rosso diventa verde. Quello che mi interessa è che voi rimaniate con l'attenzione focalizzata sul semaforo in modo da pigiare il tasto appena il semaforo cambia colore. Magari qualcuno potrebbe chiedersi, ma qual è il tempo di reazione che devo avere? Provate a farlo tra di voi e vedere quale tempo riuscite a ottenere. Nel mio caso, vedete che ho appena fatto la prova e ho un tempo di 0.37 centesimi di secondo. È alto? È basso? È tutto da vedere. Fra un attimo lo scopriremo. Avrete ottenuto risultati differenti. Sicuramente tanti di voi saranno stati anche più veloci del sottoscritto. Teniamo presente che ovviamente abbiamo anche delle età differenti. Voi siete 16 anni, 17 anni, 18 anni, io sono un 42enne e quindi i miei tempi di reazione sono leggermente più alti rispetto ai vostri. Dopodiché, con l'esercizio avrei potuto sicuramente anche avere un risultato più basso, ma non era lo scopo che volevo ottenere. Quello che mi interessa ancora una volta è adesso iniziare a riflettere sulla differenza che c'è tra riflesso e reazione. Abbiamo visto il video del giocatore di baseball. Abbiamo adesso provato, attraverso questo esercizio, Che differenza avete notato quindi tra il video e l'esercizio che abbiamo appena fatto? Provate a scriverle e dopo ne discuteremo insieme. Grazie. Ritorniamo per un secondo, anche solo mentalmente, al video del giocatore di baseball. Quello era un riflesso. Che cosa ha fatto il giocatore? Ha visto nel suo campo periferico oppure ha sentito, attraverso il proprio apparato acustico, il sibolo della pallina che arrivava, e di conseguenza, senza pensarci, in modo automatico, ha mosso il braccio per prendere la pallina. Il riflesso è una risposta involontaria ad uno stimolo. Non è richiesto quindi un pensiero cosciente e consiste in un movimento istantaneo, quello che ha fatto appunto il giocatore. Ribadiamo quindi che il riflesso è involontario ed è un'azione istantanea che minimizza un eventuale danno. Pensiamo adesso, per un attimo, all'esercizio del semaforo. Quella reazione è uno stimolo semplice. Il semaforo da rosso diventa verde, si schiaccia un tasto. Un solo canale sensoriale veniva attivato, che era quello della vista. La reazione appunto consiste nella capacità della persona di riconoscere uno stimolo e reagire di conseguenza. È un'operazione volontaria. Siete voi che decidete di farla. Il cervello riceve queste informazioni esterne e restituisce l'output appropriato. Schiaccia il tasto nel minor tempo possibile. A confronto del riflesso è molto più lento, perché comunque, essendo volontaria e cosciente, implica il fatto che ci sia un riconoscimento e una decisione di un piano d'azione motorio. Ribadisco, è un po' come nell'esercizio che avete fatto voi. Sapevate dove schiacciare e come reagire al cambio del colore del semaforo. Il giocatore di baseball non si aspettava questo stimolo, eppure è riuscito comunque, in un attimo, a avere il riflesso e a prendere la pallina. Magari un po' se lo aspettava, essendo anche un giocatore comunque professionista. Abbiamo parlato per il momento di reazione a uno stimolo semplice. Era un solo stimolo che attivava un solo canale sensoriale. Andiamo adesso a inoltrarci invece in quello che è la reazione a stimoli complessi. Abbiamo compreso che cos'è uno stimolo semplice. Ma sicuramente, grazie anche alle unità precedenti, abbiamo capito che la realtà è un po' più complessa. Dobbiamo quindi parlare della reazione a stimoli complessi, ovvero la reazione a uno stimolo che si ha quando le variabili non si possono controllare. Nella reazione complessa, l'efficacia della risposta si collega a due fattori principali, che sono l'individuazione dello stimolo e la realizzazione della risposta motoria più adeguata. Pensate ad esempio a un portiere di calcio, che vede arrivare a tutta velocità l'attaccante della squadra avversaria, che è intenzionato a segnare cosa dovrà fare il portiere. Dovrà muoversi tra i pali considerando tante variabili differenti e dovrà fare il tutto molto velocemente. Dovrà controllare e pensare se l'attaccante è destro e mancino, se l'attaccante vorrà scartare il difensore, se vorrà cercare di fare una finta, un pallonetto, un tiro di forza, dove sposterà il pallone. Tante variabili differenti che risultano tutte da stimoli diversi. Il tutto deve essere processato il più velocemente possibile, deve essere poi analizzato per portare ad un piano d'azione motorio corretto. Non è finita però, perché circolando sulla strada abbiamo sicuramente uno stimolo complesso, ma abbiamo purtroppo anche un qualcosa ancora in più, che sono i cosiddetti carichi cognitivi, ovvero quello che ci portiamo dalla nostra vita tutti i giorni all'interno dell'auto. Nella prossima slide spiegheremo meglio anche questo concetto. Reazione a stimolo complesso più carico cognitivo. Che cos'è un carico cognitivo? È un pensiero che la nostra testa, che è il nostro cervello, fa mentre aspetta la comparsa di un eventuale stimolo. E' ovvio che il nostro cervello, in unità di tempo limitato, può processare soltanto alcune informazioni, non riesce a processarle tutte. Di conseguenza, se la situazione è del tutto nuova, il cervello stesso ha bisogno di maggiore tempo per elaborare le informazioni, e quindi la reazione sarà più lenta. Sperimentiamo tutto questo, utilizzando un esercizio che abbiamo già fatto prima, su stimoli semplici, e contemporaneamente aggiungendo un carico cognitivo. Quindi, andiamo a fare ancora l'esercizio del semaforo. Avete nella slide il link, oppure dovreste ancora averlo nella cronologia del vostro smartphone, o del vostro computer. Mentre fate questo esercizio, quindi mentre aspettate di schiacciare il più velocemente possibile il tasto, quando il semaforo da rosso diventa verde, ripetete la tabellina del 7, che sembra facile, ma tanto facile non lo è. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, e poi ricominciate 7, 14, 21, e continuate a ripeterla mentre fate l'esercizio. Proviamo a vedere quindi quanto si allunga il vostro tempo di reazione a uno stimolo che già conoscete, ed è piuttosto semplice, già soltanto attaccando, collegando un carico cognitivo. Provato? Quale delle due volte è stato più facile fare l'esercizio? Penso sicuramente alla prima volta, quando dovevate schiacciare esclusivamente un tasto al cambiamento della luce del semaforo. Nella seconda situazione, dovendo ripetere la tabellina del 7, sicuramente non è più facile fare l'esercizio. Sicuramente avete avuto un rallentamento dei tempi di reazione. Fisiologico, normale, perché come abbiamo detto prima, nel caso in cui il nostro cervello debba processare più informazioni contemporaneamente, entrambi i compiti decadono e vengono fatti più lentamente. Nel mio caso, ad esempio, avevo avuto un tempo di reazione di 0,37, quando dovevo schiacciare esclusivamente il tasto alla comparsa della luce verde. Con il carico cognitivo il mio tempo di reazione è diventato di 0,50. sembra poco, ma in realtà è tanto perché 13 centesimi di secondo sulla strada, avendo una velocità, possono fare effettivamente molto la differenza. Tutto questo discorso della reazione allo stimolo semplice, della reazione allo stimolo complesso più il carico cognitivo, servono per farci comprendere sempre la complessità dell'ambiente stradale, dato dalle dinamiche di tutti gli altri veicoli, e dalla complessità del nostro sistema fisico e cognitivo. In questo modo possiamo introdurre l'ultima parte di questa unità didattica che appunto va a trattare l'intervallo psicotecnico di reazione. Nella terminologia utilizzata in materia di circolazione stradale, con la dizione intervallo psicotecnico, si indica il tempo, e ovviamente di conseguenza lo spazio, necessario affinché il conducenti di un veicolo percepisca una situazione da fronteggiare. Nella generalità dei casi si tratta di un pericolo insorto improvvisamente. Si deve poi riconoscere la situazione, decidere e reagire con azioni volontarie dirette, che devono essere con sufficiente coscienza di esse, e devono portare a uno scopo determinato, ovvero generalmente evitare lo scontro stradale. Tale azioni e reazioni, che si realizzano nel contesto dell'intervallo psicotecnico, possono essere definite di natura sensoriale, psichica, muscolare e meccanica. Esse vanno considerate fino al punto e all'istante in cui gli organi del veicolo iniziano a esplicare la propria funzione, la funzione voluta al conducente, ovvero la frenata, l'accelerata oppure la sterzata. Quindi abbiamo un tempo di reazione psichica più un tempo di reazione tecnica. All'interno del tempo di reazione psichico abbiamo la percezione, il riconoscimento, la decisione. Nel tempo di reazione tecnico abbiamo la reazione fisica, muscolare e la reazione meccanica del nostro veicolo. Tutto insieme, questo forma l'intervallo psicotecnico di reazione. Quindi lo spazio e il tempo simultaneamente necessari in modo che il conducente di un veicolo percepisca lo stimolo, elabori e reagisca con azioni volontarie dirette e con uno scopo determinato, come già detto, quello di evitare lo scontro stradale. Si potrebbero fare tantissimi esempi e chiedo anche a voi, magari dopo di costruirne alcuni. Facciamone uno piuttosto semplice. Un conducente, in una giornata di pioggia e con molto traffico, si sta avvicinando a un attraversamento pedonale. Ha quindi diversi stimoli da andare a processare. Alla pioggia, a tutti gli altri veicoli, la pioggia con la limitata visibilità, alla propria giornata e quindi le proprie emozioni. All'improvviso, un pedone sembra voler attraversare in corrispondenza delle strisce. Grazie alla sua visione periferica, il conducente riesce ad accorgersi dello stimolo. Lo isola dal resto del traffico, dei fattori ambientali e personali per porvi la propria attenzione. Una volta percepito, il conducente elabora tutta la situazione in base agli stimoli ricevuti. Riconosce il pedone e risponde di conseguenza. Che cosa fa? La azione muscolare toglie il piede dall'acceleratore e inizia a frenare. Dall'altra parte, ci sarà un altro intervallo psicotecnico di reazione differente da parte del pedone. Il pedone, dopo aver rivolto la sua attenzione al veicolo, elaborerà l'informazione della situazione, ovvero vedrà il conducente rallentare e fermarsi e metterà in atto un comportamento adeguato, ovvero attraverserà l'incrocio. Tutto questo sembra facile, ma in realtà, purtroppo, a causa di differenti problematiche, a causa della lettura errata delle situazioni o a causa di mancata attenzione, può portare sempre a fare degli scontri stradali. La nostra unità didattica è iniziata parlando di quello che è indicato dalla letteratura sul tempo di reazione medio di un conducente e abbiamo detto che è un secondo. Abbiamo poi capito come questo secondo viene a crearsi. Vediamo adesso che cosa dice la letteratura per quanto riguarda l'intervallo psicotecnico di reazione. La durata dell'intervallo psicotecnico, approssimando, può ritenersi compresa appunto fra 0,75 e 1,5 secondi. In casi particolari può anche aumentare, ad esempio se non abbiamo un'attenzione focalizzata esclusivamente sull'ambiente stradale. La durata del tempo varia quindi in relazione a differenti condizioni tipiche. Possiamo avere un'elevata prontezza e di conseguenza 0,75. Possiamo avere la normale sollecitudine, quindi un'attenzione non altissima ma comunque che ci consente di reagire in quello che abbiamo detto è il tempo medio di un secondo. Oppure possiamo avere una durata superiore al normale, 1,5 secondi, quindi un secondo e mezzo. Il problema ragazzi che vi avrà spiegato anche il vostro professore di fisica all'interno di mezzo secondo avendo una velocità di strada ne percorrete tanta. Questo è il tempo di reazione, questo è l'intervallo psicotecnico di reazione che implica fattori maggiori rispetto al normale tempo di reazione che spero abbiamo adesso sviscerato e compreso meglio. Siamo arrivati al termine di questa unità didattica dove abbiamo parlato dei tempi di reazione, abbiamo visto che prima di reagire c'è bisogno comunque dell'attenzione, abbiamo visto la differenza tra riflesso e reazione, la reazione al stimolo semplice, la reazione allo stimolo complesso, il problema dei carichi cognitivi e infine abbiamo introdotto l'intervallo psicotecnico di reazione. Adesso volendo potreste anche provare a guardare dei filmati e cercare di determinare tutti questi vari fattori tenendo sempre presenti che non potrete mai però determinare quello che passava all'interno della testa di un conducente mentre questo stava guidando. Magari la sua giornata era stata particolarmente difficile e la sua attenzione sulla strada purtroppo era inferiore e questo ha fatto aumentare il tempo di reazione e quindi ha fatto aumentare l'intervallo psicotecnico di reazione. Riflettete sempre quindi anche sui vostri stati emotivi prima di salire a bordo di un veicolo o anche mentre camminate semplicemente per strada. Adesso ci sarà la prossima unità didattica tenuta dalla professoressa Biassoni riguardante la percezione del rischio. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima unità didattica. Grazie. 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 Grazie.